Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un accessorio che non può assolutamente mancare sulle nostre schivanie. Anzi, la necessità di avere delle porte USB aggiuntive è sempre presente, perché non sono mai sufficienti, sia che parliamo di notebook che di computer fissi. Quindi oggi parliamo di tre prodotti che vanno a aumentare le porte disponibili sulla nostra schivania. Lo vediamo subito dopo la sigla. Buona visione! Vi presento velocemente i tre prodotti. In seguito andrò a effettuare dei test su un portatile con una pendrive. Vedremo i test di velocità in lettura e scrittura di tutti e tre i prodotti. Cominciamo è presente un alimentatore nella confezione da 12 volt e 2,5 ampere e il suo cavo dati che è proprietario. Ha una forma un po' particolare, è un po' simile a quello delle stampanti ma ha una porta aggiuntiva e quindi è un cavo dedicato. Si presenta di fattura ottima, completamente in alluminio. Sette porti presenti nella parte superiore, la presa alimentatore, l'attacco cavi e il tasto per l'accensione. All'interno vi è un semplicissimo manuale in inglese e in cinese ma sono indicati semplicemente i dati tecnici. Il secondo prodotto è un prodotto della MECO. È un hub anche questo a 7 porte più un'ottava porta che serve per fornire una ricarica rapida a 2,4 ampere. Anche in questo caso è presente un alimentatore, un alimentatore da 5 volt 3 ampere. Il cavo è già collegato e fisso all'interno del nostro hub e l'alimentatore si attacca qui in parte. La particolarità è che ogni singola porta ha il proprio pulsante di accensione. È presente anche qui un piccolissimo manuale in lingua inglese dove fondamentalmente non sono riportate delle grandi notizie. Il terzo hub che vediamo in questo video è ancora un prodotto della MECO. Un hub molto particolare perché è fornito di quattro porte e non è alimentato. All'interno della confezione c'è il suo cavo ma la particolarità di questo hub è che si applica al bordo delle scrivanie. Molto molto comodo perché il filo da sotto va a collegarsi al computer e noi abbiamo sul bordo della scrivania applicato il nostro hub. Lo spazio per poterlo fissare va da 10 a 32 mm quindi attenzione allo spessore della vostra scrivania ed è veramente bello. Anche in questo caso si tratta di alluminio è un prodotto molto robusto. Nella scatola è presente anche in questo caso un piccolo manualetto in inglese e cinese dove ci sono le caratteristiche. Ci spostiamo ora sul pc per eseguire le prove e poi ci rivediamo per le conclusioni finali. Cominciamo allora i test. Per effettuare i test di questi hub utilizzerò una pen drive Patriot modello Rage vedete la foto sul desktop. È una delle pen drive secondo me più veloci in commercio soprattutto rapportata al prezzo che ha. 128 giga di questa chiave costano su Amazon circa 30-35 euro. La collego per la prima prova direttamente a una porta USB 3 del computer e facciamo un test in lettura e scrittura direttamente appunto collegata. Seleziono la chiave in Crystal Disk Mar 7 e effettueremo delle prove con tre test di lettura e scrittura con file da un giga. Al termine dei test noterò i risultati in questo file per poi andare ad analizzare. Bene terminato il primo test tolgo la chiave e ora andrò a collegare il primo degli hub che è l'orico 7 porte. Ok lo alimentiamo e colleghiamo il cavo al pc. Va acceso. Collego in qualunque delle porte la chiave. Ok la chiave è stata riconosciuta e lancio il test. Bene terminato anche questo test scollego ora questo hub e collego questo della Meco. Bene la riconosciuta parto con il test. Valori molto strani molto bassi soprattutto in lettura ma particolarmente alto in scrittura. Per questo motivo scollego la pendrive e la vado a collegare a un'altra porta. Voglio ripetere il test e collegato a un'altra porta a vedere se c'è una continuità nei risultati. Vediamo. Già più allineato con gli altri valori. A questo punto direi di effettuare un ulteriore test andiamo nella prima porta e ripetiamo il test. Ok abbiamo terminato anche questo test scollego la chiave e andiamo a collegare l'ultimo hub. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo non è autoalimentato. Ok lo colleghiamo a una delle porte. E abbiamo il test. Adesso stiamo provando questo hub. Va bene abbiamo il test. Abbiamo concluso il test. Ora scollego tutto e ci vediamo tra poco per le conclusioni. Eccoci qua quindi per le conclusioni finali di questo test. Cosa dire? Nessun dubbio sui prodotti Orico. Orico è una marca che io seguo da parecchio tempo. Ho parecchi prodotti di questo brand. Sono sicuramente affidabili, ben costruiti e con un prezzo tutto sommato buono, valido. I due prodotti Orico hanno rispettato perfettamente quelli che sono stati dati dalla pendrive inserita nel pc. Quindi non introducono riduzioni di velocità. Mentre purtroppo il prodotto Meco è assolutamente bocciato in questa prova. Perché a camera spenta ho effettuato altri test su tutte le porte. E non sono mai riuscito ad ottenere un valore che fosse costante. Valori che ballano continuamente. Valori anche fin troppo strani sul fatto della scrittura. Perché se si attestano entrambi i prodotti Orico e anche il pc sui 55-56 MB. Non può questo arrivare a 75. Non penso che introduca una sorta di accelerazione nella scrittura. Quindi instabile, poco affidabile. Fatto bene, perché anche questo in alluminio si presenta bene con tutti i tasti. Però, ahimè, è inaffidabile da quel punto di vista. Quindi, che dire. Promosso Orico, bocciato il Meco. Per me è tutto. Per questo video vi saluto. Vi ringrazio di avere visto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Attivare la campanellina. E potete seguirmi su Telegram. Dove pubblico tutte le offerte dei prodotti che tratto nelle mie recensioni. Per oggi è tutto. Un grosso saluto da Flavio.